Hai un po' giudizio su questa prestazione contro il Fosinone? In inglese. Credo che abbiamo iniziato molto bene. Abbiamo avuto un gioco prima, ma la reazione della squadra è stata molto buona. Credo che abbiamo mostrato anche un buon fútbol, quindi credo che in totale è stato un buon test oggi. Andiamo cominciando poco bene con quell'errore, però poi ci siamo ripresi nel corso della gara, giocando anche un buon calcio e poi crescendo minuto e due minuti e facendo una buona partita alla fine. M. Francesco ha detto che eravate più brillante, addirittura voi del Fosinone, dipende anche dai carichi di lavoro, però soprattutto nel primo tempo un buon cosenza atleticamente più impante. Sì, credo che abbiamo lavorato molto bene nel ritiro e abbiamo cercato di mostrare dal principio che siamo freschi e che vogliamo iniziare molto bene. Abbiamo lavorato molto bene nel ritiro per provare a partire bene nella stagione e oggi abbiamo già dimostrato di volerlo fare. C'è un bel gruppo, ci sono formato un bel gruppo, vediamo eh. C'è un bel gruppo, già l'anno scorso e abbiamo trovato nuovi giocatori, molto buoni persone e credo che in questo gruppo possiamo crescere molto. C. Ci sono alcuni giocatori dello scorso anno, ne sono già arrivati alcuni nuovi e ci stiamo integrando già abbastanza bene. C. Il mondo non muore mai. C. Il lupo non muore mai. C. Qua non c'è bisogno di cadere. C. Ci capiamo un messo, ma sono i colleghi o no? C. Grazie. C. Grazie. Fabio Marlacci e RETI Calabria. Dal punto di vista fisico, come stai? Già sei in forma? Devi ancora assimilare la preparazione? C. Credo che siamo bene, siamo tutti bene e abbiamo lavorato molto bene e già oggi abbiamo dimostrato nell'insieme di avere una buona condizione per partire nella stagione che è stata a cominciare. Queste sono partite amichevoli in cui il risultato conta e non conta, però la prestazione resta. Aver giocato alla pari e forse anche meglio di una squadra di Serie A, quanta forza vi darà per affrontare questa stagione? C. In questo percorso di inizio stagione, la volontà è quella di arrivare nel vero modo possibile all'inizio della stagione. Questo era un test molto difficile e secondo me abbiamo dimostrato di voler cominciare bene. Già da oggi si è visto e vogliamo continuare così anche nella prossima gara di Coppa che sarà altrettanto difficile come oggi. Quale obiettivo ti sei posto tu per questa stagione? Quali obiettivo ti sei posto? Quali obiettivo ti sei posto? Quali obiettivo ti sei posto? È sempre difficile dire in l'inizio della stagione, ma credo che il primo passo è che il primo passo è che il primo passo è che abbiamo aumentato come squadra e fare meglio di ultima stagione. Credo che dovremmo guardare step by step ogni gioco, vogliamo venire ogni gioco, quindi non voglio parlare ora già sui gol e altre cose. Non è il caso di parlare di obiettivi, a maggior ragione è personali. Quello che vogliamo è di cominciare bene e di andare meglio dall'anno scorso, ma non è il caso di parlare di obiettivi né personale né di squadra. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e cercare di fare sicuramente meglio dall'anno scorso. Grazie